La cooperazione entra in aula. Questa mattina i ragazzi del quarto e del quinto anno dell'Istituto Superiore Pontano di Napoli sono stati scelti per proseguire le attività del progetto La Cooperazione Possibile, giunta alla quarta edizione e promossa da Conf Cooperative Napoli e sostenuta dalla Camera di Commercio di Napoli per incentivare la promozione economica del territorio partenopeo. L'Istituto Pontano, sorto nel 1876 per opera dei gesuiti, ha deciso di recente di assumere la forma giuridica della società cooperativa aderente a Conf Cooperative Napoli e come tale si è prestato volentieri a contribuire allo svolgimento delle attività di progetto. Il percorso formativo ha preso il via questa mattina anche grazie al volere degli insegnanti al fine di riuscire a diffondere e trasmettere i concetti di mutualità, cooperazione è bene comune, così da offrire una possibilità di scelta agli alunni in procinto della maturità. Un momento questo molto delicato ed eventualmente vicino all'affacciarsi al mondo del lavoro che può assumere tutt'altro aspetto se affrontato con i valori imprenditoriali cooperativi, come ci ha spiegato Marco Boenzi, direttore di Conf Cooperative Napoli. Oggi noi parliamo di cooperazione, dei principi e dei valori della cooperazione e nell'ambito di un'attività, di un progetto che Conf Cooperative Napoli sta realizzando insieme con la locale Camera di Commercio proprio per favorire, divulgare e diffondere questi principi e farlo soprattutto tra i giovani e oggi noi siamo insieme con i giovani dell'Istituto Pontano proprio per affrontare il principio della democrazia, il principio dell'uguaglianza, il principio della solidarietà e cerchiamo di trasferire questi principi ai ragazzi in modo tale da favorire la nascita di autoimpiego e soprattutto la diffusione della cooperazione tra i nostri giovani. Quanti di loro questa mattina hanno espresso la volontà o comunque il desiderio in futuro da grandi di aprire una propria azienda, una propria attività? Ma guardi, un numero preciso non glielo so dire, sicuramente le posso dire che c'è grande interesse tra i giovani c'è grande interesse perché l'istituto della cooperazione, lo strumento cooperativo è uno strumento che mette in risalto non solo la partecipazione di tutti ma soprattutto la democrazia e la possibilità senza grandi capitali di poter realizzare piccole realtà di impresa.